Romolo Valli, nato il 7 febbraio 1925 a Roma, in Italia, è stato un attore illustre la cui vita è stata segnata da trionfi e tragedie. Il suo viaggio nel mondo della recitazione è iniziato in giovane età, guidato dalla passione per le arti dello spettacolo che avrebbe definito la sua carriera e la sua eredità. I primi anni di Valli furono segnati dai tumultuosi eventi della Seconda Guerra Mondiale, durante i quali fu testimone della devastazione e degli sconvolgimenti che travolsero l'Europa. Nonostante le sfide dell'epoca, Valli rimase saldo nel perseguimento delle sue aspirazioni artistiche, affinando la sua arte e sviluppando il suo talento come attore. Negli anni del dopoguerra, Valli emerse come una figura di spicco nella scena teatrale italiana, affascinando il pubblico con la sua imponente presenza scenica e le sue potenti performance. Il suo lavoro ha ottenuto ampi consensi e gli è valso il riconoscimento come uno dei migliori talenti teatrali italiani. Il passaggio di Valli al cinema ha segnato l'inizio di una carriera di successo nel cinema, dove si è distinto per la sua notevole versatilità e profondità come attore. È apparso in numerosi film di successo, collaborando con alcuni dei registi italiani più stimati, tra cui Federico Fellini, Lucchino Visconti e Bernardo Bertolucci. Uno dei ruoli più importanti di Valli è arrivato nel capolavoro di Fellini Otto un mezzo, 1963, dove ha interpretato un'interpretazione accattivante nei panni dell'enigmatico produttore cinematografico, confidente e amico di Guido. La sua interpretazione gli è valsa ampi elogi e ha consolidato la sua reputazione di talento di punta del cinema italiano. Nonostante il successo professionale, la vita personale di Valli è stata segnata dalla tragedia. Nel 1960, visse la devastante perdita della moglie, l'attrice Elena Varzi, la cui scomparsa lo lasciò addolorato e fece fatica a venire a patti con la sua perdita. Le circostanze della morte di Varzi non sono molto conosciute, ma l'impatto su Valli fu profondo, plasmando la sua vita in modi che non avrebbe mai potuto prevedere. La perdita della moglie ha avuto un profondo effetto su Valli, sia a livello personale che professionale. Pur continuando a lavorare nell'industria cinematografica, realizzando opere degne di nota come La Battaglia di Algeri, 1966, e Il Giardino dei Finzi Contini, 1970, il dolore per la perdita rimase una presenza costante nella sua vita. Negli anni successivi, Valli ha continuato a perseguire la sua passione per la recitazione, onorando il palcoscenico e lo schermo con il suo talento e carisma. Rimase una figura amata nell'industria dell'intrattenimento italiana, venerato per il suo contributo al cinema e al teatro. La tragedia della morte per Cancro ai polmoni dell'attore Romolo Valli è un capitolo cupo nella storia del cinema e del teatro italiano. Valli, celebrato per il suo straordinario talento e versatilità sul palco e sullo schermo, ha affrontato un formidabile avversario nei suoi ultimi anni, una battaglia implacabile contro il Cancro ai polmoni. Il viaggio verso la morte di Valli è iniziato con l'inquietante diagnosi di questa malattia mortale. Il Cancro ai polmoni, un nemico formidabile noto per la sua natura insidiosa e il suo impatto devastante, ha rappresentato una sfida formidabile per la salute e il benessere di Valli. Per un uomo la cui vita è stata definita da creatività, passione e resilienza, la notizia della sua malattia è stata un colpo devastante. La battaglia di Valli contro il Cancro ai polmoni fu segnata da una serie di trattamenti estenuanti, tra cui la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia. Nonostante i suoi coraggiosi sforzi per combattere la malattia, Valli dovette affrontare numerosi ostacoli e ostacoli lungo il percorso, mentre il Cancro continuava a diffondersi e a devastare il suo corpo. Con il progredire della malattia, la salute di Valli peggiorò rapidamente, privandolo della sua vitalità, forza e indipendenza. L'attore, un tempo vivace e carismatico, si è ritrovato confinato in un letto d'ospedale, alle prese con il peso fisico ed emotivo della sua malattia. Per Valli e i suoi cari, ogni giorno che passava portava con sé un doloroso ricordo della fragilità della vita e dell'inevitabilità della mortalità. Lo spettro della morte incombeva grande, gettando un'ombra di paura e incertezza sugli ultimi momenti di Valli. Nel mezzo della sua sofferenza, Valli ha trovato conforto nell'amore e nel sostegno della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi colleghi, che si sono stretti intorno a lui nel momento del bisogno. La loro presenza ha fornito conforto e consolazione, offrendo un barlume di speranza nell'oscurità della sua malattia. Nonostante i migliori sforzi del suo team medico e il sostegno incrollabile dei suoi cari, la battaglia di Valli contro il cancro ai polmoni alla fine è giunta al termine. Il un grado febbraio 1980, circondato dai suoi compagni più stretti, Valli cedette alle devastazioni della malattia, lasciando dietro di sé un'eredità di abilità artistica, passione e resilienza che sarebbe durata a lungo dopo la sua scomparsa. La tragedia della morte di Romolo Valli per cancro ai polmoni serve a ricordare il devastante bilancio di questa malattia e la fragilità della vita stessa. Eppure, anche di fronte ad avversità inimmaginabili, lo spirito di Valli è rimasto intatto e la sua eredità è stata una testimonianza del potere duraturo dello spirito umano di perseverare di fronte a difficoltà insormontabili.